parmigiana di melanzane pazzesca buonissima la ricetta della nonna la signora maria me la faceva sempre quando abitavo ancora a roma ora sono tornato a new york non sanno manco che è la parmigiana di melanzane però sanno cos'è il benvenuto sanno cos'è il mangiare un finger food con le mani sanno cos'è la serata un pochino magari anche più intima perché la parmigiana di melanzane signori miei soprattutto ragazzi single è buonissima ma se ve l'insegna la mamma la nonna o la zia o la sua a farla se però fate una scena un po due un pochino più carina e gli piazzate lì la teglia secondo me mangiate e poi andate a letto ma a letto ognuno per conto suo la parmigiana però è uno dei piatti che si può rivisitare in mille modi una volta ve l'ho fatta grigliata messa nello stampino con dentro la ricotta la bufala a volte si può fare tipo a modi spiedino chiudendo a raviolo la melanzana si può fare in mille modi però fare invece una sorta di cannolo tipo un involtino primavera ma con dentro una parmigiana un po' modificata diventa una cosa fighissima che si può preparare in anticipo e friggere al momento dell'uso frigge in un minuto quindi fate voi se ne fate tanti in poco tempo ne avete realizzati 50 oppure addirittura friggerli poi finirli al forno insomma questo è l'infarinatura iniziale adesso andiamo a farli e di farina non ce ne è così non si sporca allora chiamiamoli chiamiamoli col suo nome quindi cannoli di parmigiana olio per friggere olio d'arrachidi servirà dopo la pasta che non vedete qua è perché sta in frigorifero perché riflettori aria calore gli fanno male cioè si asciuga usiamo la pasta fillo quella proprio per fare gli involtini croccantissimi quindi rimarrà anche molto leggera perché frigge in pochissimo tempo e non assorbe tanto olio poi si asciuga viene stupenda il ripieno è semplice allora la melanzana visto che poi andremo a friggerli non la vado a friggere bensì la cuocio in padella però voi vi dite scusa un attimo simo ma in padella si asciuga di brutto cioè diventa un po' ciccosa allora questo è il modo per fare la finta melanzana fritta nel senso si rosola appena in padella con dell'extravergine perché lei se l'assorbe l'olio quindi se lo prendere addentro un pochino poi la mettiamo in forno un pochino che il calore la fa diventare tutta morbida c'è un pochino di sapore dell'olio e diventa effetto fritto ma ovviamente non ha assorbito tutto quell'olio mi prendete una tagliettina da forno così la uso per finirle quindi fette di circa un centimetro faccio le fette anche se potrei fare tranquillamente i dadini per un motivo perché non sto tanto a girarli cioè le cuocio così intere le giro una volta sola e ho fatto il tutto e poi perché siccome dentro voglio mettere un pochino di mozzarella che fila per evitare che quella durante il riposo dell'involtino si rilasci liquidi e mi vada a bagnare la pasta utilizzo la melanzana come involucro quindi le belle fettone vanno in padella diciamo che con ogni queste sono molto grandi quindi con ogni melanzana posso fare tranquillamente un involtino e le faccio così rosolare loro si assorbiranno quello lì ci metto un pizzico di sale queste sono melanzane che probabilmente non hanno i semi dentro quindi non importa nemmeno spurgarle allora dentro che ci mettiamo ci mettiamo della mozzarella vi dicevo invece che mettere il pomodoro che avrebbe il problema dell'acqua e quindi poi il pomodoro bollente dentro è una cosa che odio un po' o fate una salsina di pomodoro a parte cioè facciamo gli involtini frulliamo del pomodoro a crudo e facciamo una sorta di salsa dip quasi da inzuppare oppure utilizziamo un qualcosa che sembra pomodorino secco ma in realtà è molto molto più croccante sentite qua qui c'ho il microfono questo si sbriciola ci sono i semi dentro sì perché è peperone crusco questo qua signori lo comprate in sacchettini tipo quelli delle patatine adesso si comincia a trovare anche al supermercato o in posti dove vendono prodotti un po' particolari è un peperone dolce non piccante che viene essiccato e poi tipo saltato in padello o fatto in forno diventa croccantissimo rimane croccante anche da freddo è stupendo anche sbriciolato sopra una pasta vi ripeto non è piccante dà quel profumo caramellato che ha il peperone quando è cotto sottilissimo e croccante dà anche volume lo mettiamo all'interno come ripieno quindi la melanzana appena un po' rosolata così la giriamo mi è venuta a mente una cosa sapete com'è questo programma no adesso ci siamo trasferiti a new york al che piano siamo fammi fare due conti saremo al trentesimo qui sì diciamo 40 che fa 25 c'è il portiraio che mi diceva al venticinquesimo piano però è rimasto sempre lo stesso programma cioè dove le cose arrivano e entrano all'improvviso ora pensavo no visto che ho detto potremmo fare una salsa deep fresca riusciamo ad avere dei pomodorini anche quelli che ci sono che c'è nel mio frigo in camerino anzi in camera perché è un appartamento in tengo i pomodori in camera anche piccolini che faccio una cosina a parte così quello che vi dico ve lo faccio vedere perché questo programma è tutto vero signori compreso la follia totale allora vedete adesso lei si è assorbita all'olietto che intanto è extravergine e non è di semi d'arachide non perché ci abbia qualcosa contro i semi d'arachide ma diciamo che per friggere l'olio di semi d'arachide va benissimo perché non dà odore lo porto a buone temperature eccetera organoletticamente l'olio extravergine sarebbe il migliore quindi in questo caso uso l'extravergine perché se lo assorbe lo tiene dentro poi questo sarà soltanto l'olio caldo di bagno di frittura della pasta che non prende odore se friggessi gli involtini nell'extravergine saprebbe tutto di olio ok sarebbe troppo forte saliamo anche l'altra parte e poi come per magia qua arriva la mia tegliettina da forno vado anche addirittura a metterci un po di carta forno sono diventato anche più preciso insomma togliamo l'eccedenza e questa sarà la finitura della cottura quindi melanzana così un po spadellata quelle più fini sono già pronte quindi una due tre e questa è un po più spessa ma in forno si ammorbidirà tantam e via in forno non c'è tanto un tempo di cottura nel senso che dipende da quanto le tagliate se le fate rosolate così e poi andiamo in forno in altri 5-6 minuti sono pronte perché poi ci sarà un'ulteriore cottura perché dentro l'involtino quelle prendono una bella temperatura quindi si ammorbidiscono ulteriormente questa qui poverina era il culetto della melanzana lo togliamo ah guarda un po cos'è arrivato tec pomodorino allora qui spegniamo qua alziamo la temperatura dell'olio e prima di fare gli involtini che aspettiamo la melanzana facciamo quello promesso ovvero prendiamo dei pomodorini già lavati mettiamo dentro anche perché effettivamente è una buona idea perché questi qui adesso daranno la parte fresca che stempera un po il fritto e soprattutto la temperatura quindi anche un doppio contrasto ci metto dentro due foglioni di basilico giusto per profumare anche tre un pizzico di sale pepe come avete mai fatta la pasta crudigna d'estate io la faccio spesso non faccio la pasta frullo pomodorini cipollotto fresco oppure una puntina di aglio se sono da solo olio basilico sale pepe frullo tutto a crudo e ci condisco la pasta ecco facciamo lo stesso guazzettino un pochino di olio e il mixer così serviamo accanto diventa anche più figo se è un aperitivo in a due bellino così tac ok questo serviremo poi in un bicchierino accanto poi andiamo a dare quelli che sono i profumi e le parti saline allora i profumi saranno il basilico all'interno della mia del mio involtino di melanzana quindi mi preparo quattro belle foglioline o fogliolone e le lasciamo qui a parte poi la mozzarella che per il problema dicevo prima del liquido io faccio la utilizzo così allora la taglio questa vasta poi faccio i miei dadini così diventa bella filante perché questo sarà il cuore dell'involtino quindi se la lasciasi troppo intera e soprattutto fredda non si fa la mozzarella si mangia ambiente non si mangia fredda però se fosse fredda non si filerebbe bene allora se invece la faccio a dadini prende meglio il calore ha più superficie di aggressione del calore e si scioglie bene però siccome uso quella buona quella fresca ha molto siero dentro quindi la avvolgo nella carta così spargo bene poi arrotolo già mi sto allenando per fare l'involtino dopo presso il siero in eccesso me lo assorbe la carta assorbente non è una magia e poi risrotolo e ho una mozzarella leggermente asciugata vedete questo è pieno di siero così che non me lo rilascia l'involtino e la mettiamo qua dentro tac ok quindi parte filante ce l'abbiamo parte profumata ce l'abbiamo il peperone che è la parte croccante ce l'abbiamo mancava la parte sapida filettino di acciuga sott'olio l'alicetta questa qui dentro da una parte salina altrimenti potrebbe tendere un po troppo al dolciastro non c'è niente di forte e visto che è una sorta di aperitivo di antipasto c'è bisogno che di qualcosa di salino che faccia venire un po l'acquolina in bocca ecco questo è l'ingrediente giusto adesso fondamentale è pulire il piano perché vi dicevo che la pasta che vado a usare è molto sensibile all'asciugarsi diciamo all'aria ma allo stesso tempo essendo così sottile è molto sensibile all'umidità cioè si appiccica in un attimo quindi è fondamentale avere un piano ben privato di tutto quello che ci abbiamo tagliato sopra quindi il siero della mozzarella eccetera bello asciutto in pratica e così ce l'abbiamo prendiamo sta benedetta pasta filo la pasta filo devo farla a spesa c'è il frigo vuoto la pasta filo è una pasta che normalmente si vede nella cucina greca nella cucina libanese araba è una pasta che tutti i momenti viene utilizzata cotta al forno per fare i dolci tipo il baklava per esempio no quello con tutto il miele pistacchi una botta di zucchero che te la manda a dire viene usata per fare piccoli cannoli eccetera però viene bene sia fritta che al forno viene bene sia dolce che salata la cosa importante da fare è gestire bene lo spessore che vuol dire ve la faccio vedere non è una pasta come le altre paste cioè che a seconda di quanto la stendi la fai più o meno spessa queste già fogli i fogli sono sottilissimi e sono a più strati pensate che l'ho vista fare a mano quando è pronta diciamo all'inizio la massa la palla viene lavorato in un modo con un tipo di farina particolare che viene così elastica che riescono a tirare dei fogli larghi 4 metri per 4 e li stendono e poi li tagliano dopo tutti a mano quindi pensate che uno spessore pari a questo guardate questo è un foglio è quasi trasparente viene praticamente tirato a mano pensate quanto è elastico però per conservarla dopo adesso si trova anche a temperatura ambiente cioè a più 4 frigorifero di solito si trovava soltanto congelata se la comprate congelata questo è un panetto diciamo più per professionisti con i ristoratori eccetera se no ci sono anche più piccolini in diversi panettini all'interno in modo che prendete e scongelate solo quello che vi serve facciamo anche economia domestica gambero rosso perché fa bene allora dicevo lo spessore dipende da quanti giri fate o quanti strati usate quindi io voglio usare soltanto un foglio alla volta o perlomeno proviamo adesso io sono per la gestione delle cose durante il lavoro altrimenti lo facciamo doppio l'importante è se ne usate soltanto uno fare più giri su se stesso perché altrimenti appena sente un po' di umidità un foglio solo si rompe quindi lo mettiamo così ci prendiamo i nostri ingredienti preparati e proviamo a fare gli involtini cioè proviamo li facciamo allora sforniamo la melanzana che sarebbe meglio farla un pochino in anticipo e utilizzarla già da fredda ma cambia la città ma il tempo rimane lo stesso c'ho sempre fretta io qua allora guarda là che bella stupenda adesso è bollente si vede perché fuma infatti mi sto bruciando le mani la mettiamo qui così una e due facciamo questi due qui non è che brucia cioè proprio è rovente e cominciamo con la mozzarella così 1 e 1 2 poi il filettino di alice 1 e 1 2 un pochino di peperone crusco che dalla parte croccante sbriciolato con le mani a pezzettoni e non lo tritate troppo fino altrimenti diventa solo un profumo ma si perde la croccantezza poi lo mettiamo anche sopra tipo coriandolini e cosa manca bravo il basilico e portinaio l'ha detto 1 e 1 2 non aggiungo sale perché in realtà la melanzana l'avevo appena salata prima pochino pochino la ciugnetta fa il suo poi saliamo la pasta fuori e va bene perché c'è l'uovo qua il portinaio sta facendo questo gesto perché dopo c'è da fargli l'arrotolamento l'arrotolage per sigillarlo di solito si usa l'uovo ma se io mettessi il tuorlo d'uovo all'interno appena il calore del fritto che è altissimo 170 gradi l'olio tocca il tuorlo lo colora subito quindi cosa si usa l'albume bravi scrivete da casa le mail a new york new york simone ruggiati oggi cucino o no era io me e simone scherzo non scrivete perché non c'è l'indirizzo momentaneamente però potete venirmi a trovare tranquillamente se trovate la casa scato un palazzo alto a manattan ci sono io rompiamo un po l'albume nel senso che gli togliamo la sua parte elastica questo qui vi dicevo sarà il collante per richiudere l'involtino altrimenti anche soltanto acqua va bene perché in realtà questa è acqua acqua e proteine allora signori i miei cominciamo quindi chiudiamo già un po su se stessa la melanzana ok la poniamo qua al centro poi ripieghiamo a metà e a metà la pasta fillo così poi ungiamo con un pochino di albume ungiamo bagniamo con un pochino di albume la fillo pensate che adesso ha già due giri appena la giro su se stessa perché l'ho raddoppiata sopra e poi faccio l'involtino uno vedete trasparente così si romperebbe però io faccio più giri due e tre e taglio con l'albume si sigilla e ripiegando all'interno i bordi dettaglio tac che bravi che siete qua si vede che non uscirebbe niente non esce la mozzarella perché se voi lo lasciate aperto cioè non fate la ripiegatura iniziale ora vi faccio vedere quale per la precisione lui non si chiude cioè lateralmente aperto allora l'olio si sta scaldando facciamo anche l'altro stesso discorso ovviamente faccio già un mezzo involtino con la melanzana in modo che so che mi rimane tutta chiusa la metto al centro prima vi dicevo che la cosa importante è questa cioè far chiudere lateralmente l'involtino quindi lui deve assolutamente avere questa parte qui chiusa una e due questo sempre quando si frigge un qualcosa dentro la pasta fila altrimenti esce laterale e poi da qui si sigilla è facile quando si prende la mano poi un attimo poi magari con un pennellino però io adoro farlo con le mani perché secondo me in cucina sono la cosa più pulita quando mi dicono eh ma gli chef usano le mani certo se le lavano 30 volte al minuto ma sì è la cosa più pulita che c'è a volte vedo tirar fuori degli utensili maio che si utilizzano poco da delle dispense lì da anni che forse sono più pulite le mani più pulite le mani di quello si sigilla bene il tutto questi due basteranno per darvi l'idea qua la ripiego su se stessa e con la sua pellicola la riavvolgo la tengo in frigo un altro giorno abbondante resiste quando la apro di solito la faccio tutta però questi sono molto grandi dopo un po tende ad annerirsi quando prende l'umidità se invece usate quelle lì congelate a pacchettini tirate fuori solo quella che vi serve si vede che vivo da solo eh porca miseria devo fare la spesa c'è un caco che orbita lì che racerbo allora l'olio sta arrivando a temperatura abbassiamo un po proviamo ci siamo quasi ci siamo quasi allora la temperatura dell'olio varia anche a seconda della grandezza della cosa da friggere cioè se dentro fosse tutto crudo e devo farlo scaldare bene allora parto con l'olio non ti dico basso ma leggermente più basso di quello di frittura perfetta perché almeno mi arriva al cuore e poi man mano sale la temperatura e si blocca ovviamente se si frigge poco alla volta è cose non fredde se no abbassano l'olio in questo caso però se lo faccio se parto così basso sì mi si asciuga meglio prima di colorarsi la pasta però ho paura che mi comincia a impregnare olio quindi ci deve essere la giusta via di mezzo perché se lo friggete con l'olio troppo troppo alto diventa subito marrone dentro non lo sente nemmeno la temperatura quindi per farlo io faccio questo o utilizzate un pezzettino di pasta così oppure infilate uno stuzzicadenti di legno nel nell'olio se subito sprigiona le bollicine quando infilate la punta cioè comincia a fare con le bollicine minuscole è pronto ok dopo tipo mezzo secondo che è dentro se appena lo infilate già fa così vuol dire che siete un po troppo alti di temperatura allora intanto prepariamo il piatto che è questo e facciamo l'impiattamento adesso prendiamo un bicchierino di vetro bicchierino di vetro vai vai che bello ok è bello lavorare così arriva tutto il momento a casa non lo fate non fate queste cose a casa allora il pomodoro vedete che si è gelatinato quasi perché quando si frulla il pomodoro fa questo effetto molto carino effetto gaspaccio lo chiamo io lo rompete che rimane cremoso quando si frulla tutto insieme e questo sarà il vostro dip da mangiare da accompagnare col cucchiaio o se siete da soli da tocciare proprio dentro l'involtino appucciarlo dentro gli diamo una forma grazie da sopra cioè lo giro che mi sia tutto pari e gli mettiamo giusto un goccio d'extravergine che qua a new york costa come il petrolio anzi di più e un pizzico di pepe e questo va qui poi con le pinze chiudo l'involtino lo faccio stabilizzare e comincio a friggere stupendo l'importante è girarlo in frittura altrimenti cuoce solo da un lato adesso diventerà croccantissimo e rimane croccante anche da freddo quello è il bello della pasta fillo oppure potete utilizzarla intorno a uno stampo da cannolo qualche volta vi ho fatto una cosa del genere cioè messa sul cannolo quello d'acciaio fritta poi togliete il cannolo da dentro dopo che si è raffreddato attenzione e le farcite ovviamente al momento perché se mettete cose umide piano piano cominciano a mosciare la pasta e voi presentate anche se avete magari un localetto un ristorante che so presentate parmigiana un voltino di parmigiana tutti pensano di vedere la melanzana invece così si crea con una sorta di aspettativa oppure un voltino primavera estate che la melanzana è estiva così uno dice che fa questo che c'è dentro una collezione di vestiti no c'è una parmigiana un po' scomposta un po' alleggerita poi resa golosa in frittura anche perché la parmigiana normale al cucchiaio dopo un po' stanca invece questa al morso ha la croccantezza fuori la morbidezza della melanzana che tende all'amarogno il croccante del peperone crusco il salino dell'acciuga il filante della mozzarella e il profumo del basilico con tutti i colori mediterranei perché da quando sono a New York tendo a fare molte cose con la bandiera italiana perché l'italiano funziona molto all'estero fidatevi dello chef è l'ora di sollevarli scolare l'olio in eccesso e asciugarli sulla carta gialla o carta assorbente da cucina stupendo se non friggete più abbassate subito l'olio così si può riutilizzare perché non prende nessun tipo di sapore con la pasta a filo si asciugano bene e si salano appena siete pronti? siete pronti? allora si servono così eh però per onor di cronaca e visto che siete lì a guardarvi la ricetta per capire più che altro che grado di cottura e come viene dentro anche se non ho un coltello seghettato che dovrebbe essere qui lo facciamo con quello liscio scotta eh no entra più dentro vai dentro macro no? allora facciamo un'altra roba se Maometto non va alla montagna la montagna va da Maometto guarda cos'è dentro guarda cos'è pazzesco invitate una ragazza a cena diventerà la vostra ragazza se la volete se no sbagliate il dolce e ripartite tutto dal capo guarda cosa sono ragazzi in 20 minuti oh sono partito da zero non ho fatto niente di che ho chiacchierato ho riso ho scherzato poi li prendete li inzuppate dentro questo lo servite con un cucchiaino a parte questo è brutto ecco tipo questo così tac e avete vinto voi signori buon appetito da New York ma che siamo sempre a Roma no ciao 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 Grazie a tutti.